Pensiamo che cosa c'è in questo momento in Italia, nel nostro paese, 7 milioni di italiani sotto la soglia di povertà, abbiamo appena fornito i dati della disoccupazione, forniamo quotidianamente situazioni di disperazione, non di gente che non riesce ad andare in vacanza e lì uno dice vabbè fa niente, di gente che non arriva la seconda settimana, di gente che non arriva neanche la prima settimana perché non ha un posto di lavoro, perché non ha più una casa, perché vivono e lo sappiamo, li abbiamo visti anche qui in studio da voi nei servizi, perché non hanno neanche più una casa e magari abitano in automobile, di persone che magari prima avevano un lavoro e anche magari lavori importanti e adesso sono costretti ad andare alla mensa del povero a fare la fila per avere la spesa, per avere il pasto, per avere un pranzo, gli italiani non scappano da una guerra e di conseguenza se scappi da una guerra sei mio fratello e ti devo aiutare e ti voglio aiutare, non ti devo aiutare, ti voglio aiutare perché è giusto e contemporaneamente devo far di tutto affinché quella guerra a casa tua finisca, ma se vieni per motivi economici ahimè noi non possiamo accogliere tutto il terzo mondo perché stiamo diventando noi il terzo mondo. Allora Grazie a tutti.